Capitolo 28 Coriolanus girò le spalle alla gabbia, appoggiandosi al tavolo con le mani, in attesa. «Le cose stanno così», disse Sejanus, la voce acuta per l'emozione. «Alcuni ribelli stanno per abbandonare il distretto 12 per sempre. Si dirigeranno a Nord per iniziare una nuova vita lontano da Panem. Dicono che, se li aiuto con l'île, potrò andare anch'io». Coriolanus si inarcò le sopracciglia, come per mettere in dubbio l'affermazione. Sejanus era un fiume in piena. «Lo so, lo so, ma hanno bisogno di me. Il punto è che sono decisi a liberare l'île e a portarla con loro. Se non lo fanno, Capitol City la impiccherà con la prossima infornata di ribelli». In realtà si tratta di un piano semplice. Le guardie della prigione fanno turni di quattro ore. «Io drogo un paio di dolci di mia madre e li offro a quelle che stanno all'esterno. La medicina che mi hanno dato a Capitol City ti stende così». Sejanus schioccò le dita. Prendo uno dei loro fucili. Le guardie all'interno sono disarmate, quindi posso obbligarle a entrare nella stanza degli interrogatori tenendole sotto tiro. L'ambiente è insonorizzato. Perciò, imprigionate lì, nessuno le sentirà urlare. Poi prendo l'île. Suo fratello può farci passare attraverso la recinzione. Andremo subito a nord. Dovremmo avere un vantaggio di qualche ora prima che scoprano le guardie. E visto che non saremo passati dal cancello, penseranno tutti che ci nascondiamo dentro alla base, quindi bloccheranno le uscite e ci cercheranno qui per prima cosa. Quando capiranno cos'è successo, ce ne saremmo andati da un pezzo. Nessuno si fa male e nessuno si accorge di niente. Coriolanus abbassò la testa e si sfregò la fronte con la punta delle dita, come se stesse cercando di raccogliere i pensieri, non sapendo per quanto ancora avrebbe potuto tacere senza destare sospetti. Masseianus si affrettò a proseguire. Non potevo andarmene senza dirtelo. Ti considero quasi un fratello. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me nell'arena. Cercherò di escogitare un modo per far sapere a ma cosa mi è successo. E anche a mio padre, suppongo, per informarlo che il nome dei plint vive ancora, sia pure nell'ombra. Eccolo, il nome dei plint. Ha posto così. Coriolanus trovò il dispositivo con la mano sinistra e pigiò il tasto folle. La ghiandaia chiacchierona ricominciò a cantare. Qualcosa attirò l'attenzione di Coriolanus. Arriva Bug. Arriva Bug, ripetè l'uccello, replicando la sua voce. Sta zitta, sciocca creatura, disse all'animale, intimamente soddisfatto che avesse ripreso il normale schema in folle. Niente che potesse allarmare Seianus. Agganciò alla svelta la copertura di stoffa e la contrassegnò come C1. Ci serve un'altra bottiglia d'acqua. Una si è rotta, disse Bug mentre entrava nell'hangar. Una si è rotta, disse l'uccello con la voce di Bug, dopodiché cominciò a imitare un corvo di passaggio. Ne cerco una. Coriolanus gli tese la gabbia. Poi, mentre Bug usciva, raggiunse un bidone in cui tenevano le scorte e cominciò a frugarci dentro. Meglio stare lontano dalle altre ghiandaie chiacchierone mentre la conversazione proseguiva. Se avessero esagerato con le imitazioni, Seianus avrebbe potuto chiedersi come mai la prima era stata così silenziosa. Non che sapesse davvero come funzionavano quegli uccelli. La dottoressa Kay non lo aveva spiegato a tutto il gruppo. Sembra una pazzia, Seianus. Potrebbero andare storte un sacco di cose. Coriolanus gli snocciolò una lista. E se le guardie non vogliono i dolci di tua madre? O magari una sì e quella crolla sotto gli occhi dell'altra? E se le guardie all'interno danno l'allarme prima che tu riesca a liberare l'île? E cosa significa che suo fratello vi farà passare dalla recinzione? Credi che nessuno lo noterà mentre la taglia? No, la recinzione ha un punto debole, dietro il generatore. È già allentato o roba del genere. Senti, ci sono molte cose che devono andare per il verso giusto, lo so. Ma credo che sarà così. Sembrava quasi che Seianus cercasse di convincere se stesso. Deve essere così. In caso contrario, mi arresteranno subito invece che più avanti, giusto? Quando sarò coinvolto in qualcosa di peggio. Coriolanus scosse la testa con aria infelice. Non posso proprio farti cambiare idea. Seianus era irremovibile. No. Ormai ho deciso. Non posso rimanere qui. Lo sappiamo tutti e due. Prima o poi darei di matto. Non sono in grado in tutta coscienza di fare il pacificatore. E non posso continuare a mettere in pericolo te con i miei folli progetti. Ma come vivrai là fuori? Coriolanus trovò finalmente una bottiglia d'acqua. Abbiamo un po' di provviste. Io sono un buon tiratore, rispose Seianus. Non aveva accennato al fatto che i ribelli avessero dei fucili. Ma a quanto pare era proprio così. E quando finiranno le munizioni? Ci inventeremo qualcosa. Potremmo pescare, mettere delle reti per gli uccelli. Dicono che al nord ci siano altre persone, replicò Seianus. Coriolanus pensò a Billy Topp che allettava Lucy Gray con quell'avamposto immaginario in mezzo alla natura selvaggia. Ne aveva sentito parlare dai ribelli? O erano loro ad averne sentito parlare da lui? Ma anche se non ci fossero, non ci sarà comunque Capital City lassù, continuò Seianus. Ed è questa la cosa importante per me, no? Non sarò di questo o quel distretto. Non sarò studente o pacificatore. Vivrò in un posto in cui nessuno potrà controllare la mia vita. So che scappare sembra una cosa da vigliacchi, ma spero che quando sarò là fuori, magari riuscirò a ragionare meglio e a farmi venire in mente un modo per aiutare i distretti. La vedo dura, pensò Coriolanus. Sarà già un miracolo se sopravvivrai all'inverno. Tolse la bottiglia d'acqua dalla confezione. Beh, immagino di poter dire soltanto che mi mancherai. E buona fortuna. Seianus gli si stava avvicinando per un abbraccio. Quando Bug varcò la soglia e Coriolanus sollevò la bottiglia. Ne ho trovata una! Vi lascio al vostro lavoro. Seianus li salutò con la mano e uscì. Coriolanus continuò meccanicamente a coprire e contrassegnare gabbie mentre la sua mente galoppava. Cosa doveva fare? Una parte di lui avrebbe voluto correre all'Overcraft e cancellare quello che aveva registrato la ghiandaia chiacchierona numero uno. Metterla su play, poi folle, poi rec, e poi ancora folle, in rapida successione, in modo che in memoria restassero solo le voci in lontananza dei soldati fuori dall'Hunger. Ma a quel punto quali sarebbero state le sue alternative? Tentare di dissuadere Seianus? Non era per niente sicuro di spuntarla e se anche fosse riuscito a fargli abbandonare il piano sarebbe stata solo una questione di tempo prima che l'amico se ne uscisse con un'altra macchinazione. Denunciarlo al comandante della base? Probabilmente Seianus avrebbe negato e visto che l'unica prova era custodita nella banca dati di una ghiandaia chiacchierona, Coriolanus non avrebbe avuto niente a sostegno delle sue accuse. Non sapeva nemmeno per quando era prevista l'evasione, quindi non sarebbe potuto intervenire in nessun modo. E come l'avrebbe messa con Seianus? O con l'intera base, se fosse venuto tutto a galla? Lo avrebbero considerato uno spione, per di più inaffidabile, e un piantagrane? Aveva avuto cura di non parlare mentre la ghiandaia chiacchierona registrava, per non autoincriminarsi in nessun modo. Ma la dottoressa Goll avrebbe colto il riferimento all'arena e avrebbe capito che la registrazione era stata intenzionale. Se Coriolanus avesse mandato l'uccello alla cittadella, avrebbe potuto decidere lei come gestire al meglio la faccenda. Era probabile che avrebbe telefonato a Strabo Plint e congedato Seianus, per poi spedirlo a casa prima che facesse danni. Sì, quella era la soluzione migliore per tutti. Lasciò cadere il dispositivo elettronico nel bidone delle scorte per gli uccelli. Se le cose fossero andate per il verso giusto, si sarebbe liberato di Seianus Plint nel giro di pochi giorni. La quiete durò molto poco. Dopo appena qualche ora di sonno, Coriolanus si svegliò da un incubo tremendo. Si trovava sulle tribune dell'arena e dall'alto guardava Seianus, che si era inginocchiato vicino al corpo martoriato di Marcus. Lo cospargeva di briciole di pane, senza sapere che un esercito multicolore di serpenti stava convergendo su di lui da ogni parte. Coriolanus gli gridava più e più volte di alzarsi e scappare, ma Seianus sembrava non sentirlo. E quando i serpenti lo raggiunsero, toccò a lui urlare più e più volte. Schiacciato dai sensi di colpa e madido di sudore, Coriolanus si rese conto di non aver riflettuto a fondo sulle conseguenze dell'invio della ghiandaia chiacchierona. Seianus sarebbe potuto finire in guai seri. Si sporse dalla sua branda e per un attimo si rasserenò nel vedere l'amico che dormiva tranquillo dalla parte opposta della camerata rispetto a lui. Si stava preoccupando troppo. Quasi certamente i ricercatori non avrebbero mai ascoltato la registrazione, né tantomeno l'avrebbero passata alla dottoressa Goll. Perché mai si sarebbero presi la briga di mettere proprio quella ghiandaia su play? Non ce n'era motivo. Le ghiandaie chiacchierone erano state già testate nell'hangar. La sua era stata un'azione discutibile, certo, ma non avrebbe portato alla morte di Seianus, procurata da serpenti o altro. Quel pensiero lo confortò, finché non si rese conto che, in quel caso, lui sarebbe stato di nuovo al punto di partenza e che l'essere a conoscenza del piano dei ribelli lo avrebbe messo in grave pericolo. L'evasione di Lille, la fuga, persino il punto debole della recinzione gravavano sulla sua mente. L'increnatura nella corazza di Capital City. L'idea stessa che i ribelli avessero un accesso segreto alla base. Cose che lo spaventavano e lo facevano infuriare. La violazione del contratto, l'invito al caos e a tutto ciò che poteva seguirne. Non lo capivano proprio quegli individui che l'intero sistema sarebbe crollato senza il controllo di Capital City. Che potevano benissimo fuggire al nord e vivere come animali perché era quello che si sarebbero ridotti. Il pensiero gli fece sperare che la ghiandaia chiacchierona consegnasse il proprio messaggio nonostante tutto. Ma se per caso i funzionari di Capital avessero sentito la confessione di Sejanus, cosa gli avrebbero fatto? Aver procurato i ribelli dei fucili da usare contro i pacificatori avrebbe dato loro motivo di giustiziarlo? No. Un momento. Lui non aveva registrato niente che riguardasse i fucili illegali. C'era solo la parte in cui Sejanus sottraeva quello del pacificatore. Ma quella era già abbastanza grave. Chissà, magari gli stava facendo un favore. Se Sejanus fosse stato preso prima di aver l'occasione di agire, forse lo avrebbero solo mandato in prigione invece di infliggergli una condanna più dura. O più probabilmente il vecchio Plint, in qualunque guaio Sejanus si fosse cacciato, lo avrebbe tirato fuori, pagando il conto per una nuova base nel distretto 12. Sejanus sarebbe stato buttato fuori dei pacificatori, cosa che lo avrebbe reso felice, e forse sarebbe finito a svolgere un lavoro d'ufficio nell'impero delle munizioni di suo padre, il che non lo avrebbe reso felice. Triste, ma vivo. E, cosa più importante, un problema di qualcun altro. Il sonno non ne volle sapere di arrivare per il resto della notte, e i pensieri di Coriolanus si volsero a Lucy Gray. Cosa avrebbe pensato di lui se avesse saputo quello che aveva fatto a Sejanus? L'avrebbe odiato, naturalmente. Lei e il suo amore per la libertà delle ghiandaie imitatrici, delle ghiandaie chiacchierone, dei covi, di tutti. Forse avrebbe appoggiato per intero il piano di fuga di Sejanus, specie dopo essere stata lei stessa rinchiusa nell'arena. Coriolanus sarebbe stato un mostro di Capitol City, e Lucy Gray sarebbe tornata di corsa da Billy Top, portandosi via quel po' di felicità che gli era rimasta. La mattina scese dalla branda stanco e nervoso. I ricercatori erano rientrati a Capitol City la sera prima, lasciando la sua squadra alla solita, monotona routine. Si trascinò per tutta la giornata, cercando di non pensare che solo un paio di settimane dopo avrebbe dovuto iniziare l'università con una borsa di studio completa. Scegliere i corsi, visitare il campus, comprare i libri. Quanto al problema di Sejanus, aveva accettato il fatto che nessuno avrebbe mai sentito il messaggio della ghiandaia chiacchierona, e tutto quello che doveva fare era spingerlo in un angolo e portarlo a ragionare, con le buone o con le cattive. Minacciare di denunciarlo sia al comandante, sia a suo padre, e mettere in pratica quella minaccia se si fosse ostinato. Ne aveva avuto abbastanza di tutta quella storia. Purtroppo, la giornata non gli offrì occasioni per dare il suo ultimatum. A peggiorare ulteriormente le cose, il giorno successivo, ricevette una lettera di Tigris, piena di brutte notizie. Potenziali acquirenti e parecchi ficcanaso erano andati a visionare la casa degli Snow. Erano arrivate due offerte, entrambe molto inferiori alla somma necessaria per trasferirsi nei pur modestissimi appartamenti che Tigris aveva selezionato. I visitatori pressavano la signora nonna, che, appena quelli comparivano, si rintanava tra i suoi cespugli di rose in plateale segno di rifiuto. Tuttavia, un giorno, aveva per caso sentito la conversazione della coppia che stava visitando il tetto. I due dicevano che avrebbero potuto sostituire il suo adorato giardino con un laghetto di pesci rossi. L'idea che le rose, il simbolo stesso della dinastia Snow, andassero distrutte, l'aveva precipitata in uno stato di turbamento e confusione ancora maggiori. Ormai lasciarla sola era una preoccupazione. Tigris non sapeva più cosa fare e gli chiedeva consiglio. Ma che consiglio poteva mai darle lui? Le aveva delusi in ogni modo possibile e non gli veniva in mente nessuna via d'uscita dalla loro sofferenza. Rabbia, impotenza, umiliazione. Solo quello aveva da offrire. Il sabato non vedeva quasi l'ora di scontrarsi con Sejanus. Sperava che sarebbero arrivati alle mani. Qualcuno doveva pur pagare per le offese alla famiglia Snow e chi meglio di un plint. Smiley, Bug e Pertica erano impazienti come sempre di andare al forno. Anche se cominciavano a essere stufi di dover poi passare le domeniche a riprendersi. Mentre si vestivano per la loro uscita serale, i tre decisero di rinunciare al liquore bianco per una specie di sidro che non era altrettanto forte ma procurava comunque una discreta sbronza. La questione non si poneva affatto per Coriolanus che non aveva nessuna intenzione di bere. Voleva avere la testa sgombra nel momento in cui avesse affrontato Sejanus. Quando uscirono dalle camerate furono trascinati da Cucchi a svolgere un compito extra e passarono mezz'ora a scaricare un overcraft pieno di casse. Ne sarete felici la settimana prossima. C'è la festa di compleanno del comandante disse l'uomo e allungò loro una bottiglia da un litro di quello che risultò whisky scadente. Un miglioramento notevole rispetto al sidro e al pessimo liquore bianco. Quando arrivarono al forno ebbero appena il tempo di prendere alcune casse e di strizzarsi in un angolino contro la parete di fondo prima che Moe D'Aivory entrasse in scena danzando per presentare i covi. Non erano i posti migliori ma tra il whisky di Cucchi e il fatto di potersi gustare qualche dolcetto di ma invece di doverlo barattare nessuno aveva motivo di lamentarsi anche se dentro di sé Coriolanus rimpiangeva di aver perso il suo momento con Lucy Gray nel capanno. Piazzò la sua cassa praticamente sopra quella di Sejanus così si sarebbe accorto immediatamente se avesse tentato di sparire un'altra volta. Come previsto dopo circa un'ora di spettacolo sentì Sejanus alzarsi e rimase a guardarlo mentre si allontanava verso la porta principale. Coriolanus contò fino a dieci prima di seguirlo cercando di attirare l'attenzione il meno possibile ma si trovavano già vicini all'uscita e nessuno parve notarli. Lucy Gray diede inizio a un numero malinconico con i covi che suonavano una musica triste alle sue spalle. Sei tornato tardi e sulla brandina ti sei buttato. Puzzi di qualcosa che i soldi han comprato. Non abbiamo denaro hai dichiarato. Allora dove l'hai preso e come l'hai pagato? Il sole non sorge e non tramonta per te. Lo credi ma così non è. Mi racconti bugie e qual è la conclusione? Ti venderò per una canzone. Il brano lo infastidì. Gli parve un'altra esibizione ispirata a Billy Taup perché non scriveva qualcosa su di lui invece di rimuginare su quella nullità. Era lui ad averle salvato la vita dopo che Billy Taup le aveva comprato un biglietto di sola andata per l'arena. Coriolanus uscì appena in tempo per vedere Sejanus che girava l'angolo. La voce di Lucy Gray si sparse nell'aria della notte mentre lui scivolava lungo il fianco dell'edificio. Ti alzi tardi non dici una parola sei stato con lei e io son rimasta sola tu non sei mio così mi hanno detto ma come faccio quando diventa freddo il letto? La luna non cala e non cresce per te lo credi ma così non è mi fai soffrire e ti aspetti adorazione ti venderò per una canzone. Coriolanus si fermò nell'ombra sul retro del forno e restò a guardare Sejanus che varcava in fretta la porta aperta del capanno. Tutti e cinque i covi erano in scena quindi chi stava cercando? Era un incontro prestabilito con i ribelli per definire i piani di fuga. Non aveva la minima intenzione di mettere piede nel loro covo e aveva appena deciso di aspettare fuori quando la donna delle bancarelle quella da cui Sejanus aveva detto di voler comprare un coltellino uscì dalla porta infilandosi in tasca un rotolo di banconote poi sparì in un vicolo lasciandosi il forno alle spalle. Allora era quello Sejanus era andato a portarle i soldi per le armi molto probabilmente quei fucili con cui aveva in mente di andare a caccia nel nord. Gli parve il momento buono per affrontarlo mentre aveva ancora in mano la pistola fumante del contrabbando si avvicinò pian piano al capanno non volendo spaventare Sejanus nel caso fosse armato il rumore dei suoi passi mascherato dalla musica te ne vai poi ritorni non ci sono io sola non ci sei solo tu a noi tutti manca la parola più piccoli e più fragili loro sono preoccupati vai o stai devono sapere se verranno abbandonati le stelle non brillano e non cadono per te lo credi ma così non è fai del male alle mie stelle e non pensi a una reazione oh sì ti venderò per una canzone durante l'applauso che seguì Coriolanus sbirciò all'interno del capanno dalla porta aperta l'unica luce veniva da una piccola lanterna dello stesso tipo di quelle che aveva visto in mano ad alcuni minatori all'impiccagione di Arlo collocata su una cassa sul fondo del capanno al bagliore della lampada distinse Sejanus e Billy Top chini su un sacco di iuta dal quale sporgevano numerose armi fece un passo in avanti ma si immobilizzò di colpo la canna di un fucile da caccia gli premeva qualche centimetro dalle costole inspirò e fece per alzare lentamente le mani quando sentì un rapido scalpiccio dietro di lui e la risata di Lucy Gray che gli afferrò le spalle ed esclamò ciao ti ho visto sgattaiolare fuori Barbasor ha detto che se poi Lucy Gray si irrigidì notando il tizio armato dentro disse soltanto l'uomo Coriolanus avanzò verso la lanterna con Lucy Gray che gli stringeva forte il braccio sentì il mattone di cemento grattare sul pavimento e la porta chiudersi dietro di loro Sejanus balzò in piedi no è tutto a posto Sprius lui è con me sono con me tutti e due Sprius entrò nella luce della lampada Coriolanus lo riconobbe era l'uomo che aveva trattenuto l'île il giorno dell'esecuzione doveva essere il fratello di cui aveva parlato Sejanus il ribelle diede loro un'occhiata credevo fossimo d'accordo che questa è una faccenda tra noi lui è quasi un fratello per me disse Sejanus mi coprirà quando fuggiremo ci farà guadagnare altro tempo Coriolanus non aveva mai fatto una promessa del genere ma annui Sprius spostò la canna del fucile su Lucy Gray e questa qui te ne ho già parlato rispose Billy Top lei verrà al nord con noi è la mia ragazza Coriolanus sentì Lucy Gray stringergli ancora il braccio poi lasciarlo andare se mi prendete disse lei ma non state insieme voi due chiese Sprius gli occhi grigi che andavano dall'uno all'altra se lo era chiesto anche Coriolanus Lucy Gray aveva davvero intenzione di andare con Billy Top e lui lo aveva usato e basta come aveva sospettato lui frequenta mia cugina Barbazor mi ha mandato qui lei per dirgli dove incontrarsi stanotte ecco tutto rispose Lucy Gray quindi aveva mentito soltanto per calmare le acque era così ancora incerto Coriolanus le resse il gioco esatto Sprius riflette sulla cosa poi si strinse nelle spalle e abbassò il fucile liberando Lucy Gray da quella minaccia immediata immagino che farai compagnia a Lil lo sguardo di Coriolanus cadde sul mucchio di armi altri due fucili da caccia poi uno da pacificatore come quelli usati nelle esercitazioni di tiro e un pezzo pesante che sembrava poter lanciare delle granate parecchi coltelli un bel bottino non per cinque persone ribatté Sprius sono le munizioni che mi preoccupano sarebbe utile se riuscissi a procurarcene altre dalla base Seianus annui forse noi non abbiamo accesso all'armeria in realtà ma posso dare un'occhiata certo fare scorta tutti voltarono la testa di scatto verso la voce femminile proveniente dall'angolo opposto del capanno Coriolanus aveva dimenticato la seconda porta dal momento che non sembrava usarla mai nessuno nel buio totale fuori dal cerchio di luce della lampada non avrebbe potuto dire se fosse chiusa o aperta né tantomeno distinguere l'intrusa da quanto tempo era nascosta lì nell'oscurità chi c'è? chiese Sprius fucili munizioni lì derise la voce non sapete pensare a nient'altro vero? solo al nord la cattiveria del tono aiutò Coriolanus a identificare quella voce già sentita la sera della rissa al forno è Mayfair Lip la figlia del sindaco che va dietro a Billy Taup come una cagna in calore disse Lucy Gray sottovoce conservate sempre l'ultimo proiettile in un posto sicuro così potete farvi saltare le cervella prima che vi prendano continuò Mayfair vai a casa le ordinò Billy Taup ti spiegherò tutto più tardi non è come sembra ma no entra pure e unisciti a noi Mayfair l'invitò Sprius non abbiamo niente contro di te non ci si può scegliere il padre non ti faremo del male aggiunse Sejanus Mayfair fece una risata sgradevole come no cosa succede chiese Sprius a Billy Taup niente lei parla soltanto rispose lui non farà niente sono fatta così io solo chiacchiere e niente fatti giusto Lucy Gray a proposito ti è piaciuta Capital City la porta emise un piccolo cigolio e Coriolanus ebbe la sensazione che Mayfair si stesse allontanando che fosse sul punto di fuggire con lei se ne sarebbe andato il suo intero futuro no di più la sua stessa vita se avesse raccontato quello che aveva sentito tutti loro sarebbero stati spacciati in un lampo Sprius alzò il fucile per spararle ma Billy Taup diede un colpo alla canna per abbassarla verso terra di riflesso Coriolanus si allungò imbracciò il fucile da pacificatore e fece fuoco in direzione della voce di Mayfair la ragazza mandò un grido poi si sentì il rumore del suo corpo che crollava sul pavimento Mayfair Billy Taup schizzò verso il punto in cui era distesa davanti alla porta del capanno barcollò all'indietro sotto la luce la mano coperta da una lucida patina di sangue rivolgendosi a Coriolanus come un animale rabbioso cosa hai fatto? Lucy Gray cominciò a tremare come aveva fatto allo zoo quando avevano tagliato la gola di Arachne Crane Coriolanus le diede una spinta e i piedi e i piedi della ragazza iniziarono a muoversi verso la porta battene torna in scena è quello il tuo alibi vai ah no se mi impiccano dovranno impiccare anche lei insieme a me Billy Taup le corse dietro senza un attimo di esitazione Sprius sparò al petto di Billy Taup il colpo lo sbalzò all'indietro e lui si accasciò sul pavimento nell'immobilità che seguì Coriolanus si accorse e della musica che veniva dal forno per la prima volta da quando Lucy Gray aveva terminato il suo numero Moe d'Ivory aveva coinvolto in un coro tutto il pubblico resta dal lato soleggiato sempre dal lato soleggiato sarà meglio che tu faccia come ha detto disse Sprius a Lucy Gray prima che si accorgano che non ci sei e qualcuno venga a vedere resta dal lato soleggiato della vita Lucy Gray non riusciva a distogliere lo sguardo dal corpo di Billy Taup Coriolanus la ferrò per le spalle obbligandola a guardarlo negli occhi vai me ne occupo io la spinse verso la porta ci aiuterà ogni giorno ci illuminerà il cammino Lucy Gray l'aprì e insieme guardarono fuori la via era libera se restiamo dal lato soleggiato della vita sì signore resta dal lato soleggiato della vita tutto il forno erano esplosi in acclamazioni da ubriachi la canzone di Moe d'Aivory era finita appena in tempo tu non sei mai stata qui mormorò Coriolanus all'orecchio di Lucy Gray mentre la lasciava andare lei attraversò vacillante la stradina ed entrò nel forno lui richiuse la porta accompagnandola con il piede seianus sentì il polso di Billy Taub sprius tornò a infilare le armi nel sacco di iuta non preoccuparti sono morti io ho intenzione di tenere per me quello che è successo voi lo stesso ovviamente rispose Coriolanus seianus li fissava ancora sotto shock anche lui me ne assicurerò io potreste anche pensare di venire con noi qualcuno pagherà per questo disse sprius recuperò la lampada e svanì dalla porta sul retro precipitando il capanno nel buio Coriolanus avanzò brancolando fino a trovare seianus e lo trascinò fuori seguendo i passi di sprius spostò il corpo di Mayfair all'interno del capanno spingendolo con uno stivale e chiuse con decisione la porta sulla scena degli omicidi usando solo la spalla ecco era felicemente riuscito a entrare e uscire dal capanno senza toccare niente con le mani a parte il fucile con cui aveva ucciso Mayfair certo che doveva essere coperto delle sue impronte e del suo DNA ma quello l'avrebbe preso sprius quando se ne fosse andato dal distretto 12 per non farvi più il ritorno l'ultima cosa di cui Coriolanus aveva bisogno era un bis della storia del fazzoletto sentiva ancora il decano Highbottom che lo derideva lo senti questo Coriolanus è il rumore degli snow che cadono come la neve rimase per un attimo a respirare l'aria della notte una melodia o un pezzo strumentale di qualche genere fluttuava su di loro pensò che Lucy Gray fosse riuscita ad arrivare in scena ma che non avesse ancora ritrovato la voce afferrò Sejanus per un gomito fece con lui il giro del capanno e controllò il passaggio tra le due costruzioni deserto si affrettò lungo il fianco del forno tirandosi dietro Sejanus e si fermò prima di svoltare l'angolo non una parola similò con le pupille dilatate e il sudore che gli manchiava al colletto Sejanus ripeté non una parola ripresero posto all'interno del forno vicino a loro Pertica sedeva con la schiena appoggiata alla parete in apparenza privo di sensi Di fianco a lui Smiley chiacchierava con una ragazza mentre Bug dava fondo alla bottiglia di whisky Nessuno sembrava essersi accorto della loro assenza Il brano strumentale finì Lucy Gray aveva riacquistato abbastanza lucidità da cantare e aveva scelto un pezzo in cui tutti i covi dovevano accompagnarla Ragazza sveglia Era probabile che sarebbero stati loro a scoprire i corpi visto che usavano il capanno come camerino Più a lungo li avesse tenuti tutti insieme là sopra Più solido sarebbe stato il loro alibi Più tempo avrebbe avuto Sprius per far sparire le armi dei delitti e più difficile sarebbe stato per il pubblico collocare nel tempo gli eventi Coriolanus sentiva il cuore martellargli nel petto mentre cercava di valutare i danni Pensò che a nessuno sarebbe importato granché di Billy Taup tranne forse a Clerc Carmine ma di Mayfair l'unica figlia del sindaco Sprius aveva ragione qualcuno avrebbe pagato per lei Lucy Gray diede il via libera alle richieste del pubblico e riuscì a tenere sul palcoscenico tutti e cinque i covi per il resto dello spettacolo poi come al solito Moe D'Ivory raccolse le offerte Lucy Gray ringraziò tutti i covi fecero un ultimo inchino e gli spettatori cominciarono ad avviarsi verso la porta trascinando i piedi dobbiamo rientrare subito alla base sussurrò Coriolanus Asseianus sostennero Pertica uno da una parte e uno dall'altra ciascuno con un braccio del compagno intorno alle spalle e si diressero fuori seguiti da Bug e Smiley avevano percorso forse una ventina di metri lungo la strada quando le urla di Moe D'Ivory attraversarono l'aria della notte facendo tornare indietro tutti dato che sarebbe parso sospetto se loro fossero andati avanti Coriolanus Asseianus fecero fare dietro fronte anche a Pertica poi in brevissimo tempo i fischietti dei pacificatori cominciarono a trillare e due ufficiali indicarono loro di ritornare alla base si persero in mezzo alla calca e non si parlarono di nuovo finché non ebbero raggiunto la camerata e sentito i compagni russare dopodiché sgattaiolarono nei bagni noi non sappiamo niente questo è tutto mormorò Coriolanus siamo usciti dal forno per poco solo per pisciare il resto della serata lo abbiamo trascorso a vedere lo spettacolo va bene disse seianus e gli altri sprius è andato via da un pezzo e lucy grey non ne farà parola con anima viva neanche con i covi non vorrà metterli in pericolo rispose domani avremo tutti e due i postumi della sbronza e passeremo la giornata alla base sì sì giornata alla base seianus sembrava assente ai limiti dell'incoerenza Coriolanus gli strinse il viso tra le mani è una questione di vita o di morte devi mantenere il controllo seianus concordò ma Coriolanus capì che dopo quanto era successo non sarebbe riuscito a chiudere occhio infatti lo sentì girarsi e rigirarsi per tutta la notte rivide mentalmente la sparatoria ancora e ancora aveva ucciso per la seconda volta se la morte di Bobbin era stata autodifesa quella di Mayfair cos'era non un omicidio premeditato e nemmeno un omicidio in realtà solo un'altra forma di autodifesa magari la legge non l'avrebbe vista in quel modo ma a lui sì poteva anche darsi che Mayfair non avesse un coltello però aveva il potere di farlo impiccare per non parlare di quello che aveva fatto a Lucy Gray e agli altri forse perché in effetti non l'aveva vista morire e non aveva dato neanche un'occhiata al corpo si sentiva meno coinvolto emotivamente rispetto a quando aveva ammazzato Bobbin o forse uccidere per la seconda volta era solo più facile della prima in ogni caso sapeva che le avrebbe sparato di nuovo se avesse dovuto rifare tutto da capo e saperlo per qualche ragione confermava la giustezza delle sue azioni domenica anche i commilitoni in preda ai postumi da sbronza riuscirono ad arrivare alla mensa per colazione Smiley aveva avuto le ultime notizie dalla sua amica infermiera che era di turno in ambulatorio la sera prima quando avevano portato i corpi sono tutti e due del posto ma una è la figlia del sindaco l'altro è una specie di musicista ma non di quelli che conosciamo sono stati ammazzati in quel capanno dietro il forno proprio durante lo spettacolo solo che nessuno di noi ha sentito gli spari per via della musica hanno scoperto chi è stato chiese Pertica non ancora questa gente non dovrebbe neanche avere dei fucili ma ve l'ho detto sono da qualche parte là fuori disse Smiley li ha uccisi uno dei loro pare come fanno a saperlo chiese Sejanus chiudi quella bocca pensò Coriolanus conoscendolo Sejanus poteva essere a un passo dal confessare un crimine che non aveva neppure commesso beh lei mi ha detto che pensano che la ragazza sia stata colpita con un fucile da pacificatore forse uno vecchio rubato durante la guerra e il musicista è stato ucciso da una specie di fucile da caccia che la gente di qui usa per andare a caccia è probabile che ci fossero due tiratori riferì Smiley hanno ispezionato la zona l'intorno e non hanno trovato le armi sparite da un pezzo con gli assassini se volete il mio parere i nervi di Coriolanus si distesero un po' permettendogli di mangiare una forchettata di pancake chi ha trovato i corpi la bambina che canta sai quella con il vestito rosa rispose Smiley modaivori disse Sejanus credo di sì comunque ha dato di matto hanno interrogato tutti quelli del gruppo ma quando avrebbero avuto il tempo di farlo quasi non escono di scena e comunque non hanno trovato fucili raccontò loro Smiley la cosa li ha piuttosto scossi però penso che conoscessero il musicista per un motivo o per l'altro Coriolanus infilzò una salsiccia sollevato l'indagine era partita con il piede giusto ciò nonostante poteva ancora essere un problema per Lucy Gray che aveva un doppio movente Billy Toop era la sua vecchia fiamma e Mayfair l'aveva spedita nell'arena e quando avessero tirato in ballo l'arena era possibile che venisse coinvolto anche lui nessuno nel distretto 12 sapeva che Coriolanus era il nuovo amore di Lucy Gray solo i covi e lei li avrebbe fatti tacere in ogni caso se aveva un nuovo amore perché l'uno o l'altra avrebbe dovuto preoccuparsi di Billy Toop forse però volevano uccidere Mayfair come forma di vendetta e forse Billy Toop aveva cercato di difenderla in effetti quell'ipotesi era poco lontana da quanto era successo realmente ma centinaia di testimoni avrebbero giurato che Lucy Gray era rimasta in scena per tutto lo spettacolo salvo un breve intervallo di fucili non ne avevano trovati sarebbe stato difficile dimostrare la sua colpevolezza lui avrebbe dovuto portare pazienza dare alle acque il tempo di calmarsi ma poi avrebbero potuto stare di nuovo insieme per molti versi si sentiva più vicino a lei ora che avevano questo nuovo e inscindibile legame alla luce degli avvenimenti della sera precedente il comandante chiuse i soldati nella base per tutta la giornata non che Coriolanus avesse programmi avrebbe dovuto tenersi alla larga dai covi per un po' lui e Sejanus gironzolarono senza meta cercando di avere un atteggiamento normale giocarono a carte scrissero lettere pulirono gli stivali mentre toglievano il fango dalle suole Coriolanus sussurrò il piano di fuga è ancora valido? non ne ho idea rispose Sejanus il compleanno del comandante è solo tra qualche giorno ed era proprio quella la sera in cui avremmo dovuto agire Corio e se arrestassero un innocente per gli omicidi allora saremmo fuori dai guai pensò Coriolanus ma disse soltanto credo sia altamente improbabile senza le armi come prove ma affronteremo il problema quando sarà il momento Coriolanus dormì meglio quella notte la base riaprì lunedì e appena l'isolamento ebbe fine cominciarono a circolare voci secondo le quali gli omicidi erano collegati a lotte interne tra i ribelli se volevano uccidersi tra loro che facessero pure il sindaco arrivò alla base e diede in escandescenze con il comandante a proposito di sua figlia ma visto che era stato lui a viziare Mayfair fino all'incoscienza e a permetterle di andarsene in giro come un gatto selvatico il pensiero generale era che dovesse incolpare solo se stesso se la ragazza si accompagnava a un ribelle martedì pomeriggio l'interesse per gli omicidi si era smorzato al punto che Coriolanus cominciò a fare programmi per il futuro mentre pelava patate per la colazione del giorno dopo la prima cosa era assicurarsi che Sejanus avesse rinunciato al piano di fuga c'era da sperare che quanto era successo al capanno lo avesse convinto che stava giocando con il fuoco la sera seguente sarebbe toccato loro un turno di pulizia insieme era il momento migliore per affrontarlo se Sejanus non avesse accettato di abbandonare l'idea di fuggire Coriolanus non avrebbe avuto altra scelta che denunciarlo al comandante con quella maggiore determinazione si dedicò a sbucciare patate con uno zelo tale che terminò prima del previsto e Cookie gli risparmiò l'ultima mezz'ora di lavoro andò a controllare la posta e trovò una scatola mandata da pluribus piena di corde adatte a vari strumenti musicali e accompagnata da un biglietto gentile in cui diceva che era tutto gratis posò la scatola nel suo armadietto felice al pensiero di come sarebbero stati contenti i covi appena fosse stato abbastanza sicuro di rivederli nel giro di una settimana o due magari se il polverone si fosse posato del tutto Coriolanus cominciava a sentirsi di nuovo quello di prima sicuro di sé mentre si dirigeva verso la sala mensa martedì voleva dire pasticcio di carne e verdure aveva ancora qualche minuto quindi andò a prendere un altro barattolo di brutalco per il suo sfogo che stava finalmente iniziando a guarire ma quando uscì dall'infermeria un'ambulanza della base accostò lì davanti gli sportelli posteriori si spalancarono e due soccorritori militari estrassero dal retro un uomo in barella la camicia sporca di sangue suggeriva che fosse morto ma mentre lo portavano dentro l'uomo voltò la testa due occhi grigi si posarono su Coriolanus che non riuscì a trattenere un sussulto Sprius poi la porta dell'ambulatorio si chiuse impedendogli di vedere altro Coriolanus ne parlò a Sejanus solo ore dopo ma nessuno dei due sapeva che cosa fosse successo era evidente che Sprius aveva avuto uno scontro con i pacificatori ma perché? lo avevano collegato agli omicidi? erano a conoscenza del piano di fuga avevano scoperto il traffico di armi cosa avrebbe raccontato ora che lo avevano preso? mercoledì a colazione l'infermiera amica di Smiley gli disse che Sprius era morto durante la notte per le ferite riportate lei non ne aveva idea ma quasi tutti pensavano che fosse coinvolto negli omicidi al capanno Coriolanus trascorse la mattina comportandosi come se avesse il pilota automatico inserito in attesa dell'inevitabile che arrivò a pranzo due agenti della polizia militare si presentarono al loro tavolo immensa e arrestarono Sejanus che se ne andò senza dire una parola Coriolanus tentò di mostrare la stessa espressione sconvolta dei suoi compagni doveva per forza esserci un errore ripeteva Pappagallo guidati da Smiley affrontarono il sergente all'esercitazione di tiro vorremmo solo far sapere che è impossibile che Sejanus abbia commesso quegli omicidi è rimasto con noi tutta la sera non ci siamo mai separati azzardò Pertica come se lui potesse saperlo svenuto com'era contro la parete ma tutti gli diedero ragione apprezzo la vostra lealtà disse il sergente ma credo che il suo arresto riguardi qualcos'altro Coriolanus fu percorso da un brivido qualcos'altro come il piano di fuga non gli sembrava possibile che Sprius avesse spifferato quell'informazione soprattutto perché avrebbe compromesso sua sorella Lil no Coriolanus era certo che la ghiandaia chiacchierona fosse arrivata alla dottoressa Gol e che quelle fossero le conseguenze prima l'arresto di Sprius poi di Sejanus da quel momento gli parve che tutto precipitasse mentre tentava di rassicurare se stesso dicendosi che quanto accadeva era nell'interesse di Sejanus le richieste dei commilitoni di vedere il loro amico venivano respinte e la detenzione si prolungava continuava ad aspettarsi che Strabo Plint arrivasse su un overcraft privato per trattarne il rilascio offrendo di modernizzare gratuitamente l'intera flotta aerea e riportando a casa in tutta fretta il figlio disobbediente ma era almeno a conoscenza della difficile situazione di Sejanus quella non era l'accademia dove telefonavano ai genitori di chi combinava qualche casino con l'aria più naturale possibile Coriolanus chiese a un soldato più anziano se era consentito chiamare a casa sì a tutti erano concesse due telefonate all'anno ma solo dopo sei mesi di servizio ogni altra comunicazione doveva venire via posta non sapendo per quanto Sejanus sarebbe rimasto in cella Coriolanus scrisse un breve biglietto per ma informandola senza entrare nello specifico del fatto che Sejanus era nei guai e suggerendo che forse sarebbe stata opportuna qualche telefonata da parte di Strabo stava per correre a spedire il messaggio il venerdì mattina quando fu trattenuto da un annuncio che convocava tutti nell'auditorio lì il comandante comunicò ai soldati che quel pomeriggio una recluta sarebbe stata impiccata per tradimento e quella recluta era Sejanus Splint era surreale come un incubo a occhi aperti durante l'addestramento mattutino Coriolanus ebbe la sensazione che il suo corpo fosse quello di una marionetta strattonato di qua e di là da fili invisibili quando l'esercitazione finì il sergente lo convocò e tutti i suoi compagni Smiley Bug e Pertica restarono a guardare mentre gli veniva dato ordine di presenziare all'impiccagione per completare i ranghi di ritorno alla camerata Coriolanus aveva le dita così rigide che quasi non riusciva a maneggiare i bottoni dell'uniforme ognuno dei quali aveva stampato il sigillo di Capitol City sulla superficie argentata le gambe molli avevano la stessa mancanza di coordinazione che lui associava al periodo dei bombardamenti ma in qualche modo barcollò fino all'armeria per prendere il suo fucile una volta sul camion gli altri pacificatori che non lo conoscevano per nome si tennero alla larga da lui era sicuro di essere ormai compromesso per via dei suoi rapporti con il condannato come per l'impiccagione di Arlo a Coriolanus fu ordinato di stare in piedi in un plotone al fianco della forca la folla numerosa irrequieta lo confuse Sejanus non si era di certo guadagnato quel genere di favore in qualche settimana finché non arrivò il furgone dei pacificatori e sia Sejanus sia Lil in catene si trascinarono fuori alla vista della ragazza molti dei presenti cominciarono a gridare il suo nome Arlo un ex soldato indurito da anni miniera era riuscito a mantenersi abbastanza compassato almeno fin quando non aveva sentito Lil in mezzo alla folla lei e Sejanus al contrario indeboliti dal terrore sembravano molto più giovani della loro età e rafforzavano l'impressione di due bambini innocenti trascinati alla forca Lil le gambe tremanti incapaci di sostenere il suo peso fu spinta in avanti da due pacificatori scuri in volto che probabilmente avrebbero trascorso la sera seguente tentando di cancellare quel ricordo con il liquore bianco mentre lo superavano Coriolanus fissò Sejanus negli occhi e tutto ciò che vide fu quel bambino di otto anni nel cortile della scuola con il pacchetto di caramelle gommose strette nel pugno solo che questo bambino era molto molto più spaventato le labbra di Sejanus formarono il suo diminutivo Corio mentre i lineamenti si caricavano d'angoscia ma se fosse un'invocazione di aiuto o un'accusa di tradimento Coriolanus non avrebbe saputo dirlo i pacificatori posizionarono i condannati fianco a fianco sulle botole un altro tentò di leggere l'elenco delle accuse sovrastando le urla della folla ma Coriolanus colse solo la parola tradimento distolse lo sguardo mentre i pacificatori si facevano avanti con i cappi e si ritrovò davanti agli occhi il viso desolato di Lucy Gray era in piedi quasi in prima fila con un vecchio vestito grigio e i capelli nascosti da un fular nero le lacrime che le scorrevano lungo le guance mentre fissava Sejanus quando iniziò il rullo di tamburi Coriolanus chiuse gli occhi desiderando di poter escludere anche i suoni ma non poteva e sentì ogni cosa il grido di Sejanus il colpo secco delle botole che si aprivano e le ghiandaglie chiacchierone che riprendevano l'ultima parola di Sejanus strillandola ancora e ancora sotto il sole accecante ma 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 ma